Oggi ho fatto un casino e non lo sistemo più! Oggi ti ho vista nuda in una nuvola di fumo! Voilà! Ti ho dato due pastiglie e tu hai scelto quella blu! Adesso che ti penso mi sento connesso a te Penso che alcune vibrazioni vadano in base ai pensieri! G-Shadow, continua la! Oh! Niente private! Mettimi fuori... Ma potevi metterti osservatore in caso? Cosa mettiamo? Nucleo fa cagare Residence Cioè sono quelle tre le mappe da giocare Prenditi Octane, che noiosa! Che noiosa! Va bene, metto Octane! Prendimi raggio! Eh! Va bene! Buonanotte Zecche! Attento! Non penso Mortal che vi stomperò! Ho fatto tipo 9 kill adesso! Che vabbè, dai! Onesto risultato! Ciao Marika! Mettiti Conduit! Attenta! 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 Marika! Vabbè Marika però... Stavo guardando la live... Dai Marika! Cioè te l'ho anche lasciata! Cioè no, non è vero, eri prima a piccare! Eh vabbè, è così... È così... Succede! Eh, mi dispiace per voi! Mh... Più veloce, più veloce, più veloce! Più veloce! Eh, sì. Cosa? Eh? Ma stiamo perdendo, ragazzi. Cioè... Eh, pensi di colpire un capstrafer? Ma come no? Dai! Sesso Spider-Man. Ma Sanni è contro di noi? Sì, ok. Godo! Mari Cachilla Sanni! Ma l'hai arato e basta, Mari... Di le cose come stanno. Non mi ricordo il tasto per curarmi, cavolo. Questo è un guaio. Madonna, Sanni che sta... Sanni che sta alla casetta! Come? Guardalo lì! Non ha mai mollato l'L2 in vita sua! Stava lì con l'L2 puntata da due ore. Mamma mia, Sanni. Non c'è, penso di non aver messo... 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 Sono tornata, ma sto mangiato poco. Troppo poco. Non c'è, penso di non aver messo... Mannaggia. Eh, sei su Spider-Man! Minchia l'area 45! Carabinarii! Eh... Quasi quasi! Dov'è Sanni? Dov'è camperato Sanni adesso? Eccolo lì, eccolo lì! Nooo, ha lasciato Sanni one shot! Che pall! Ovviamente! Sulla Q della Troia! Ma che fa? Ma che fa? No! Godo! Sì, Dedix! Il salvatore! Ma stiamo perdendo ancora, stiamo perdendo... Dedix la carriacola dopo... Che è questo? Che è Sanni camperato, palese? Sanni camperato, palese? Godo! Daaaai! No! Uno di beat! Vabbè, Sanni, Sanni fermogli allo spawn! Mamma mia, Sanni! Sanni, pessimo! Sanni, pessimo! È lì da te, Sanni! Morto? Sì, God! Morto! Vabbè, dai! godo no uno di vita grazie grazie mona per la sub si si minchia top pro player cosa sesso spider man ciao sabri ma mortal infame lurido bastardo bannato i fire ho appena visto un'azione tossi chi mi ha ti peggato a me arrivo a me ma mortal ma ti beggato a ok o non si sa mai al povero sunni aiuti begato sunni prima non so se qualcun altro abbia fatto ora io l'ho fatto prima ma no ma l'ho fatto due rifà però stiamo facendo private sì perché faccio vomitare da mk quindi non voglio andare in pub che prendo il cazzo poi c'è un problemo oh porco diaz dove sono c'è un problemone ossia che adesso che hanno messo il cross progression io mi ritrovo che da mk non so giocare ma c'ho il mio account della play con 4 eventi di kd e quindi io sono che non so giocare ma c'ho le lobby tre yardate molto tre yardate no ma me l'hanno rubato che gli ho fatto 200 scusa non a te ma marica l'ho fatto un botto io l'ho fatto io ho fatto un botto ragazzo sta ma no 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 fidati 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 mona so fare un cazzo ma a parte che adesso non c'è io non sono nemmeno i tasti sono tipo vabbè sto giocando da due ore ora ora ma non so nemmeno i tasti cioè se mi metti in una partita normale non so non so lutare per dire oh le mie oneste 12 kill nella privata però e poi sto giocando con sense dpi a random cioè non so che sense io abbia sto giocando con 2.5 con 800 dpi ok non ho idea di come sia ragazzi grande vittoria questa è una vittoria rubata perché ah perché eravamo in cinque vabbè dai succede non è colpa mia se vi livano madonna che palle vabbè dai non piangere una privata confondevo sempre mano per te chi era sofia la mia ragazza cioè è un uomo di 45 anni no non è un è un è un lui no non è vero ciao ciao io chi sei non piangere i sanni aia allora dedix di là e sanni da noi e mano di qua attenzione nico e sanni nico e sanni beati tra le donne top team cioè nico sanni marika marika reiko e sofia nico sanni marika miua e sofia cioè c'è un intruso però prendiamo cioè perdiamo tantissimo siamo contro sesso spider-man midgar mamma midgar mortal midgar questa partita promette basta lascio residenze perché ho performato troppo dimmi una qualsiasi leggenda da usare mirage midgar midgar le si perde nei miei occhi for real for real sembra non li apra nemmeno giovani kid di periferia e comunque e sanni se tipo entri nella chat vocale ci sei cioè perché cioè sì sanni eh ma non so come esprimere cioè sì sanni se vuoi quattro ah cinque di quattro ma chi è scusa che non gioina chi è che non gioina di loro chi è che crusha spider-man sesso cioè no 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 eh non ho il flatline niente non ho la mia arma adesso le le dodici kills me le sogno vabbè che classe hai piccato marica non hai preso rampage ma perché una volta caricato ed è andata male ma perché devi caricarlo vabbè caricalo c'è caricalo io lo carico tranquillo sanni arrivo io no vaffanculo fatelo da solo no no sono private a random c'è il codice pubblico stanno entrando tutti cioè non so quante ne faremo ancora chi è che vai veramente sembrate tu pandiz e davidotti nelle private godo vinto il fight nonostante il bambusol eh no il codice dopo lo scrivo adesso non c'è più perché non mi fa più pinnare i messaggi non so perché non mi fa più pinnare i messaggi su twitch da ieri no ho pillato la mamma non va bene dai madonna dedix non rompere il cazzo basta è il momento di tornare main avok ho capito qua tocca questo è quello questo è quello vero è il momento di tornare main avok no no godo sesso spider-man sesso spider-man spider-man sesso ma siamo per ah minchia 18 a 12 cioè deluso sofia bit you sono deluso megatron sono deluso sono deluso tanto molto ma no 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 Cosa? Cosa? Marika stai laggando, non capisco niente. Però sì, cioè hai ragione. Tu hai sempre ragione. Che palle! Manu Morton! Godo, ribo, godo. Vabbè, intanto a parte che dopo questa penso... Vabbè, dai, ne faccio un'altra. Così ci sono Mona e ribo. Godo. E non rompere il cazzo, Spider-Man sesso di merda. Vabbè, la granata l'ho tirata perché avevo pigiato il tasto sbagliata. Piuttosto che capire come toglierla, faccio prima tirarla. No. Oddio! Oddio, c'è Sunny. Assurdo. Madonna, madonna, Dedix. Se fossi morto... Cioè, ti mancava tanto, però... Questa è combattuta. Ma mi sa che la perderemo. Mamma mia. Sunny troppo forte, Sunny. Assurdo. No, comunque sono deluso da Sofia B2. Doveva carriare il team, invece è la nostra condanna. Megatron, la nostra condanna. Il giocatore che doveva performare... Non sta performando. Eh... Kumano. 27-39. Minchia il cazzo. Proprio combattuta. Ma che è sta laggata? Ehi, ciao. Dai, porco, due. Sex Spider. Boia! No, in verità... Siamo quasi tutti da PC, credo. Cioè, no, non quasi tutti, però siamo in abbastanza da PC ora. Cioè, prima eravamo più da PC che da... Che da pad. ... Sì. ... ... ... Ricarico gli scudi E niente Vabbè dai Come si dice in questi casi Ci ho provato E ci ho provato Da novello PC player Alla mia quinta partita da PC Ho fatto le mie oneste 14 kill Ci ho provato Un'ottima prestazione comunque da parte mia Secondo me Per quello che potevo offrire Sono stato veramente bravo E adesso Allora Cambiamo un po' Beh ribo Con me e Marika No è vero che Marika va via Sembra un po' altina la sense E non so Cioè io non ci capisco un cazzo di sense da PC Quindi può essere Di sense Ho 800 dpi 2.5 di sense Metti i sanni con noi Ok Posso stare in squadra con te? No mano Sì Cioè però Non saprei Dai Mettiamo Ale di là È bassa Ah Eh ho capito Ale forte Che palle Vai Dedix di qua Ma chi se ne frega Dai 2.1.6 2.1.6 Mmm Non so Prima stavo giocando con 1.6 Stavo giocando con 1.6 dpi E 2 di sense Tipo Mi sembra E non mi trovavo male Però mi hanno detto di abbassarla Mi sono fidata Vabbè la posso alzare un altro po' Così un po' troppo Mettiamo 3 Vabbè ma Vai facciamo 3 Non riesco a fermarmi E non lo farò O se no mi alzo i dpi A ricordare una tortura Volontemente Perché io sarò il vostro ultimo ricordo Niente di più rinfrescante del piombo in una giornata calda Ciao ribo Ciao sanni Ciao nico Ciao Sai che Ho fatto chiusura ieri sera Eh ma andiamo a Ibiza Eh Sì Eh Viene anche Ribo Ribo 1 Oh fuck Miwa viene a Ibiza E Marika viene a Ibiza Ma Scusate Ma poi perché ho cambiato la sense Che ho fatto un botto di kill nell'ultima partita Perché mi devo rovinare tutto No ora li metto quelle di prima Oh aspetta aspetta Le nuove sense Attenzione Attenzione le nuove sense Attenzione le nuove sense No andate male le nuove sense Bocciate Metterò quelle di prima Ma Ma Oddio mi sono teletrasportato Il più forte Ciao pandits Prima ho fatto 14 kill E Prima ancora 12 Sono diventato il re dei pc player Tutto ad un tratto Cioè assurdo Cioè ora non so se te lo posso far vedere Perché praticamente ho cambiato sense Però vedi ho killato mortal due volte di fila Cioè entrambe le volte guancho Però guarda 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 Eh lei era un Miwa Hai visto pandits che forte Grandi progressi Cioè Pro sì Beh vabbè Diciamo Diciamo di sì Però non c'è nessuno Mannaggia Sono tutti camperati alle casette Che Enemies Noiosi Minchia sembra di giocare contro Contro sanni prima No e scusate Non so quale sia il tasso delle granate Cazzo Mi sembrava di aver fatto un botto di danni Era la barriera Mi stavo già emozionando Beh questa è una cosa antipatica però Più veloce Più veloce Più veloce Sto ricaricandogli Lancio una gradata Promettazione No mi hanno individuata Ma che fine ho fatto Ricaricogli Rampolino lanciato Individuata Devo agire Sesso Spider-Man Eh non ci sono Rib Unlucky Dov'è Ma è sceso The fuck Ah minchia Nooo Non c'è la porta Perché non sto vedendo nessuno E si killa solo morta Sempre one shot Più veloce Più veloce Più veloce Ah Ah Non è qua Ma? Eh male male Deaddix Nooo Si è crashato Che pal Eh la mia potenza Da PC player Mortal Mi dispiace Troppo forte Erivo Mortal Distrutto Mortal Devastato Get good Che grande dico Eh Eh si Tocca Tocca farmare kill Ma? Ma? Vabbè ma siete crashati in due Ma no dai Forse questo non era crashato Cioè Eh Nico farm Siamo tre contro cinque Ho notato Ma no aspetta Non siete in tre Mi sa che siete in due Perché mi sa che ci sono due crashati Mi sa che siete in due crashati Quindi Tanto state Siete in due mi sa Cioè Mortal Spider-Man Sesso crashati Beh un 5v2 Io direi Che si può vincere Per voi Ah no Mortal è tornato Dai Allora siete solo 5v3 Marika ma ora che mi stai rivedendo Cosa ne Cioè Sono migliorate le mie abilità Cioè dai Sì vabbè Sto ghilando solamente Miwa Però Adesso non sembri spastico Grazie Vabbè Dai E il trombone Miwa dove sei Miwa dove sei Eh su quelli in volo Bisogna un po' Migliorare il tracking Però vabbè dai Ottima partita E prego Dedix Divertente Divertente Basta Annullo l'ordine del pad Si continua dai Mk Molto divertente Adesso ho giocato con 3 3 con 800 dpi Grazie tranquillo Come si è rotto il pad Ehm Praticamente Ho i tasti dorsali Ogni volta che lo apro Ogni volta che lo apro Per smontare i dorsali E cambiare i tasti Che si rompono Il Il cavo che collega La scheda madre dei dorsali Alla scheda madre del pad Viene piegato in modo storto E a forza di aprirlo Perché adesso C'ho questo pad modificato Da circa due anni A forza di aprirlo Che quel cavo Eniva sempre piegato Si è Si è spezzato Cioè non si è spezzato completo Si è un po' Si è un po' tagliato Quindi si sono rotti i contatti E quindi I tasti dorsali Non sono Cioè non sono più collegati Diciamo Non si accende Non si accendono più i tasti dorsali Non li posso più Più abbinare Utilizzare Quindi Devo Devo cambiare Lo riparo No lo riparo sì Devo Ho già ordinato il kit Dei dorsali Cambio il cavo Ho lasciato il pad aperto Anche perché non ho Il mio pad adesso è così Perché non ho sbatta Di riaprirlo domani L'ho lasciato aperto Perché non ho sbatta Domani di riaprirlo Quindi Quando mi arriva il kit Di dorsali Cambio Quei due cavi Quei due cavetti Che devo cambiare E in teoria Dovrebbe essere a posto Però Mi sa che a sto punto Qualche Cioè Mi sa che continua un po' Più che altro Mi diverto Mi diverto Mk Farò Turnerò Farò un po' di giornate Mk Un po' di giornate Ranked Col pad Visto che Le ranked Tocca farle Mk Un po' di giornate